Da oggi l'Abruzzo è in zona arancione, ma cosa cambia? Le restrizioni sono differenti rispetto al passato e qui sta la novità sostanziale, non riguardano chi possiede il super green pass. Vaccinazione è avvenuta guarigione, bensì soltanto i soggetti non vaccinati. Da oggi dunque, lunedì 24 gennaio, la nostra regione è in zona arancione per effetto dell'ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza all'esito del monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero. Rispetto alla zona gialla, le nuove regole riguardano in particolare chi non è in possesso di super green pass, quello che si ottiene con il vaccino con la guarigione, mentre per chi ha la certificazione verde rafforzata non ci sono variazioni. In Abruzzo, secondo i dati ufficiali, le persone non vaccinate sono oltre 150.000, di queste circa 70.000 sono over 50, categoria per cui dall'8 gennaio è scattato l'obbligo vaccinale. In arancione, gli spostamenti all'interno del proprio comune sono sempre consentiti, mentre gli spostamenti verso altri comuni o altre regioni sono permessi a chi non ha il green pass solo per questioni di lavoro, necessità salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune. In questi casi, tra l'altro, torna a essere necessaria l'autocertificazione. Chi invece possiede il green pass base, quello rafforzato, può muoversi liberamente dentro e fuori la regione. Fanno eccezione gli spostamenti da comune di massimo 5.000 abitanti verso altri comuni entro i 30 chilometri, eccetto il capoluogo di provincia, consentiti a tutti. Il servizio di scuola bus è sempre garantito a tutti. Tra le novità della zona arancione c'è anche l'accesso ai negozi presenti nei centri commerciali, nei giorni festivi e prefestivi, eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie e tabacchi. Da oggi è necessaria la certificazione rafforzata. Super green pass è necessario anche per partecipare ai corsi di formazioni in presenza. Dal 1 febbraio scatta la sanzione di 100 euro per gli over 50 che non si sono vaccinati e l'obbligo di avere il green pass base per entrare negli uffici pubblici, alla posta, in banca o in uffici finanziari e nelle attività commerciali. Insomma, servirà il green pass per andare a ritirare la pensione o dal tabaccaio. Dal 1 febbraio sarà necessario essere vaccinati o guariti dal covid o avere almeno l'esito di un tampone negativo effettuato 48 ore prima se antigenico o 72 ore se rapido. Le esigenze alimentarie di prima necessità, sanitarie, di sicurezza e di giustizia saranno invece sempre garantite senza bisogno di esibire il green pass.